Tutto nasce da una segnalazione ai vigili urbani della presenza di alcuni extracomunitari che si sono reintrodotti negli impianti comunali, pare con l'intento di danneggiarli. Sono arrivate a Pian del Lago due pattuglie della polizia municipale a supporto due volanti e una dei carabinieri. Uno sgombro che però pare essere stato difficile più del normale, infatti gli extracomunitari non hanno voluto sentire ragioni e non si sono mossi. Dunque si è trasformato soltanto in un sopralluogo una mera presa d'atto del numero dei presenti, circa 70 al momento. D'altro canto il numero esiguo degli uomini per effettuare lo sgombro al momento ha fatto desistere le forze dell'ordine. Quelli presenti a Pian del Lago sono immigrati in attesa, in attesa di trovare ospitalità al cara al momento già al numero massimo 90 posti per 90 ospiti.